Musica Buonasera e bentrovati alla seconda edizione di G News. Apriamo il TG con la cronaca. Un uomo di 57 anni è ricoverato in grave condizioni nell'ospedale di Torrette di Ancona, dopo essere stato preso a pugna a Monte Urano a fermo da un 32enne, rivale del suo futuro genero. L'uomo è reduce da un intervento chirurgico alla testa e l'aggressione avvenuta a convalescenza appena iniziata. Per l'episodio il 32enne è stato arrestato con l'accusa di lesioni gravissime e omissione di soccorso. E con un grosso coltello da cucina minaccia un uomo a passeggio con il cane e lo rapina del portafogli con alcune decine di euro. La donna di Ancona, di 46 anni, ha cercato poi di nascondersi dietro alcune siepi, ma i poliziotti di una volante l'hanno individuata e arrestata. È successo a Torrette di Ancona. Ed ora ci spostiamo a Grotta a Mare. I carabinieri, quando sono arrivati sul posto, l'hanno trovato in piedi sul tetto dell'auto intendo a invenire contro la sua ex. Un giovane di Grotta a Mare è stato tratto in arresto ieri notte con l'accusa di stalking. Il giovane da tempo dava fastidio alla sua ex, che è arrivata al limite della sopportazione, ha chiamato i carabinieri, quando per l'ennesima volta si è trovata sotto casa in molestatore. I carabinieri sono subito arrivati sul posto e hanno trovato l'uomo in piedi sul tettuccio della propria auto posteggiata sotto casa della donna, mentre urlava di tutto alla sua ex. Drammatico incidente con quattro auto coinvolte sulla strada Teramo Mare. Quattro i feriti, di cui due gravi. Vediamo i particolari nel servizio. Quattro feriti, dei quali due gravi, e il bilancio del drammatico tamponamento sulla corsia in direzione Monti della Teramo Mare tra l'ingresso di Mosciano Sant'Angelo e lo svincolo di Villa Zaccheo, verificatosi stamane poco dopo le 12.30. Un furgone educato ha travolto due autovetture, delle quali una con carrello ferme sul ciglio della strada. La superstrada non ha corsia di emergenza per completare il carico di uno scooter in panne. Lo schianto è stato tremendo e ha catapultato il primo mezzo, un Fiat Doblò, contro l'altro furgoncino, un fiorino, sul cui carrello era stato da poco caricato lo scooter. In una esplosione di vetri e lo stridio delle lamiere, due persone sono state travolte e buttate a terra, mentre altre due sono rimaste incastrate nell'abitacolo del Doblò. I soccorsi sono stati immediati, ma sul tratto di strada è stato subito il caos. Una fila di auto e tir, lunga 4 km fino all'ingresso della Teramo Mare, ha bloccato sulle due corsie qualsiasi movimento, rendendo difficile anche il passaggio dei mezzi di soccorso. L'arrivo degli agenti della polstrada in forze, diretti dall'ispettore Antonio Bernardi, ha messo ordine con la disposizione dei mezzi su un'unica corsia, per permettere il deflusso contromano delle ambulanze del 118, croce bianca e croce rossa verso gli ospedali. La sala operativa del 118 ha inviato sul posto anche l'elisoccorso. Il velivolo decollato dall'Aquila è terrato sulla superstrada e ha caricato uno dei feriti di 68 anni, trasferito poi nel nosocomio aquilano. Sono serie le condizioni di due persone, quelle che erano impegnate sulla strada a caricare lo scooter sul carrello. Sono stati trasferiti entrambi all'ospedale Mazzini, con un codice 2 per fratture. Si tratta di un 44enne e di un 53enne. È invece ricoverato all'ospedale di Giulianova il quarto dei feriti, un 58enne. Ed ora a Pescara, un operaio del comune di Popoli di 58 anni, è rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente sul lavoro, avvenuto in via Don Bosco, nei pressi del campo di calcetto. A quanto pare l'uomo si trovava su un cestello elevatore e si stava occupando della potatura delle piante. Quando è stato travolto da un ramo e si è sbilanciato ed è caduto a terra, facendo un volo di diversi metri. Con lui c'era una squadra di operai. Per soccorrerlo è arrivato a Popoli, sul lungo fiume, l'elicottero del 118, oltre che l'autoambulanza. È stato condotto in ospedale a Chieti, dove sono ancora in corso gli accertamenti. Ha riportato diversi traumi. Non si conosce la prognosi. È una donna di 77 anni, di Ancona, versa in gravi condizioni dopo essere caduta dalle scale del cinema Goldoni. L'anziana, molto probabilmente, uscendo dal cinema, si è sentita male ed è caduta dalle scale battendo la testa. La donna ha più volte perso coscienza e ha preoccupato soprattutto il forte trauma cranico riportato nella caduta. E' tanta paura questa mattina per un incidente che ha coinvolto due autovetture a Villa Rasicci di Bellante. Le due macchine si sono scontrate frontalmente e a bordo di una delle macchine c'era un bimbo di appena tre anni. Per fortuna, al di là della scena dell'incidente, è abbastanza drammatica. Per le conseguenze visibili alle carrozzerie, il bilancio è limitato. La mamma del bimbo è rimasta ferita in maniera leggera, mentre il piccolo è uscito illeso. Ferita anche un occupante dell'altra macchina, anch'essa in maniera leggera. Ed è comparso questa mattina davanti al GIP del Tribunale di Ascoli Piceno, Lorenzo Siniscalchi, il ventenne di San Benedetto del Tronto, accusato di aver ferito con un coltello durante il Carnevale di Offida tre giovani ascolani, fra cui il diciassettenne operato d'urgenza ad Ancona per la perforazione di un polmone. Il ragazzo, ventenne, è accusato di tentato omicidio, lesioni aggravate dall'uso di un'arma e da futili motivi. Porto abusivo di un'arma da taglio senza giustificato motivo. Un coltello a serramanico con una lama lunga 21 centimetri. Dal carcere di Marino del Tronto, dove è rinchiuso da due giorni, il ragazzo ha affidato ai suoi legali un messaggio di scuse per i feriti. E dopo gli accoltellamenti che hanno visto feriti tre ragazzi di Ascoli durante la festa del Bove Finto di Offida, il sindaco Valerio Lucciarini esprime la sua amarezza e riflette sulla natura della festa. Vediamo il servizio di Cristiano Pietropaolo. Ma signor sindaco, purtroppo il Bove di ieri è stato funestato da questo brutto fatto di sangue. Qual è la reazione della città dopo questi tragici eventi? La reazione della città è una reazione di grossa amarezza perché di fronte a un divertimento che ha coinvolto e vivacizzato migliaia di visitatori in modo spontaneo, naturale ed equilibrato ci sono poi avvenimenti isolati come quello che è avvenuto ieri che mettono in discussione questa tradizione secolare a cui noi teniamo tantissimo. Siamo addolorati perché si torna indietro di vent'anni, mentre in questi anni nel momento recente c'è stata questa crescita di consapevolezza da parte di tutti i manifestanti, di coloro che accorrono ad Offida, vivendo questa tradizione bellissima con tanta gente e con uno spirito positivo, ci troviamo di fronte a episodi da condannare e che devono anche porci alcuni interrogativi rispetto alla socializzazione, alla vita. Adesso far passare la giornata del boe finto per questo episodio tragico, drammatico, da condannare come una giornata di totale sfrontatezza rispetto alle regole, alle norme, credo che sia però sbagliato. A quanto pare il motivo della risa è stato il campanismo di sfondo calcistico. Avete magari avuto qualche notizia in merito su questa storia? Fortunatamente pare, però mi attengo ad alcune indiscrezioni che non sia così, nel senso che c'è stato soltanto il gesto di un ragazzo che aveva bevuto eccessivamente. Il bere però non condiziona fatti del genere, perché uno che porta un coltello a serramairi con una lama di 20 cm, diciamo già è predisposto per alcune situazioni non ordinarie. E quindi pare che motivato da questa eccessa e brezza da parte dell'alcol abbia manifestato la volontà di divertirsi con questo coltello. Qualcuno gliel'ha fatto notare e purtroppo chi gliel'ha fatto notare è stato vittima di questo atteggiamento davvero inqualificabile, vergognoso e che mi auguro possa essere sanzionato nel modo migliore. L'accoltellamento di un giovane ascolano e il ferimento di due ulteriori amici nel corso del bove finto, ad opera di un ubriaco armato di coltello, rappresentano fatti di una gravità inaudita. Il mio pensiero e la mia solidarietà vanno al giovane ricoverato a Torrette e alla sua famiglia, così come agli altri ragazzi coinvolti nella vicenda. L'alcol e la droga sono vere e proprie calamità sociali che riescono a trasformare occasioni di festa in fabbriche di morte. Venerdì è accaduto ad Offida, ma potrebbe capitare sempre e ovunque, visto il dilagare di una subcoltura dello sballo, che dobbiamo prevenire e contrastare con la massima determinazione. Voglio tuttavia precisare che la rivalità tra Ascoli e San Benedetto non c'entra nulla con l'atto delinquenziale di quell'ubriaco, a parlare è il sindaco Castelli. Cresce la preoccupazione tra gli operatori balneari di San Benedetto a causa dell'enorme quantità di detriti portata dall'Adriatico sul litorale. Il mare mosso che ha caratterizzato lo scorso weekend ha complicato ulteriormente la situazione della spiaggia Nord, dove la potenza di Cavalloni ha intaccato parte dei mucchi che nei giorni precedenti erano stati allestiti dalla Picena Ambiente per essere smaltiti nei prossimi giorni. Il sindaco di Alba Adriatica, Tonia Piccioni, plaude all'arrivo di 180 mila euro dalla regione Abruzzo per la riqualificazione dello stadio di Via Scolana. Vediamo i particolari nel servizio. In arrivo dalla regione 180 mila euro per la ristrutturazione dello stadio di Alba Adriatica in Via Scolana. Sì, è una bellissima notizia. Ieri sono stata a Pescara a firmare proprio la convenzione e sono estremamente felice poiché è un concorso di spese tra la regione 180 mila euro unitamente a 180 che finanzierà il comune di Alba Adriatica per poter effettuare dei lavori sullo stadio di Via Scolana. Siamo ben lieti poiché lo stadio presenta varie difficoltà e quindi dopo tanto possiamo iniziare a metterlo a posto e anche a norma. I progetti già sono in corso poiché al fine del finanziamento sono stati presentati i progetti. Ci auguriamo di poterli iniziare a breve seppur c'è tutto un iter burocratico che è quello proprio del bando poiché sono delle somme importanti quindi occorrono il concorso del bando per le ditte, la partecipazione. Però abbiamo in mente di poter fare una serie di lavori che sono importanti per poter rimettere proprio in sicurezza questo bene importante per Alba Adriatica. Francesco Comi è stato proclamato ieri segretario regionale del PD dopo la vittoria alle primarie del 16 febbraio con il 77% dei voti. All'Assemblea regionale non hanno partecipato Luca Ceriscioli, Matteo Ricci e gran parte dell'Ala che si era abbattuta per un rinvio delle primarie e parole di Ceriscioli oggi non riconosce la segreteria Comi. E Stefano Stracci è il nuovo presidente dell'Assemblea regionale del PD, una elezione avvenuta all'unanimità dei presenti ma che non allontana polemiche e colpi bassi. Si tratta di una gratificazione importante sia per me che per il nuovo gruppo dirigente che intende cambiare il partito, dichiara il sindaco di Monteprandone. Il mio sarà un ruolo istituzionale, lavorerò per far tornare l'unità. E domenica 9 marzo si terranno a Nereto le primarie per decidere chi tra Giuliano Di Flavio e Perino Di Pietro sarà il candidato sindaco del PD alle prossime elezioni comunali di maggio. Il PD si impegnerà a costruire un progetto politico che renda protagonisti tutti i soggetti attivi sul territorio per elaborare insieme un'idea di Nereto per i prossimi 5 anni. E Franco Rolandi è stato riconfermato alla guida della Filt CGL Abruzzo, Federazione Italiana Lavoratori Trasporti, nell'ambito del X Congresso Regionale che si è concluso ieri alla presenza del nuovo comitato direttivo regionale, composto da 33 delegati sindacali in rappresentanza delle diverse realtà territoriali regionali che operano nel settore dei trasporti. Si chiama Coffee for Life, l'iniziativa promossa dalla Croce Rossa di Albadriatica nei bar convenzionati. Per ogni caffè consumato infatti i 10 centesimi saranno devoluti alla fine del 2014 alla Croce Rossa per iniziative nel campo sociale, i particolari nel servizio. Massimiliano Bollettini è il titolare della prima attività che aderisce a questa iniziativa della Croce Rossa di Albadriatica. Sì, mi è venuto in mente di essere promotore di questa iniziativa per portare il caffè, oltre a portarlo un euro, ma non per il cliente, deve devolvere qualcosa in beneficenza a un'associazione e mi è sembrato più giusto e la associazione più seria che io conosca che sia la Croce Rossa a usufruire di questa beneficenza. È un discorso che va molto ampliato, nel senso che io sono convinto che aderiranno anche altri locali, altri bar. Siccome qui a Albadriatica è presente, nel territorio ne siamo una cinquantina di bar, speriamo che qualcuno aderisce a questa iniziativa insieme a me. Certo, l'esempio che date voi è quello ovviamente di far albergare l'interesse anche negli altri esercenti considerando anche il momento difficile, però insomma il contributo è veramente minimo, no? Sì, il contributo è minimo, si basa sugli centesimi. Poi chiaramente dal fatturato di ogni locale che ha il caffè, alla fine con un chilo di caffè si hanno su e giù 130-140 caffè. È chiaro, ognuno a seconda del quantitativo di fatturato di caffè farà beneficenza per quello che ha lavorato. Coffee for Live, l'iniziativa promossa dalla Croce Rossa, divisione territoriale di Giulianova, qui ad Albadriatica, che tipo di iniziativa? Dunque, è un'iniziativa di raccolta fondi. Noi cerchiamo sempre di trovare iniziative nuove che possano, chiaramente anche in questi tempi difficili, riuscirci ad aiutare nelle varie iniziative che facciamo. E Coffee for Live è una di queste, mi sembra un'idea che può avere un buon seguito, perché chi poi dopo dona questi 10 centesimi a Croce Rossa lo fa in maniera non dolorosa, perché compra semplicemente il caffè, consuma il caffè, parte del ricavato del caffè va a Croce Rossa alla fine di quest'anno per le iniziative delle varie attività sociali che abbiamo. Quindi è una cosa semplice ma che può risultare efficace. Con finalità importanti nel campo sociale, quante strutture, quanti bar e attività hanno aderito qui ad Albadriatica? Al momento siamo partiti da bollettini. Chiaramente dobbiamo fare una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle altre attività. Incominciamo da qui e speriamo che questa iniziativa non si allarghi solo qua ad Albadriatica ma anche a Giulianova e a Corropoli che sono la nostra competenza territoriale. Secondo una ricerca della CNA nel Piceno Famiglie, artigiani e imprese stanno pagando oltre 7 milioni di tasse in più al mese. Un salasso mentre la crisi morde con maggiore ferocia. Rispetto al 2012, infatti, il fisco nella nostra provincia ha incassato quasi 7 milioni di euro in più al mese nel 2013 ovvero 33 euro e qualche centesimo in più al mese per ogni abitante del Piceno, compresi i neonati. Nel dettaglio, rivela sempre lo studio CNA, l'anno nero per i contribuenti piceni è stato il 2012 quando la pressione fiscale è balzata dal 42 al 44% circa, complice anche il calo del PIL. Nel 2013, se questa può essere una consolazione, il fisco si è limitato a confermare nella sostanza le entrate e anche la pressione fiscale dell'anno precedente. Stessa storia finora anche per il 2014. Sono 1.302 gli studenti abruzzesi che potranno beneficiare dei voucher per l'alta formazione e la formazione universitaria finanziati dalla Regione Abruzzo con 2 milioni di euro nell'ambito del programma operativo 2007-2013 del Fondo Sociale Europeo. L'elenco degli assegnatari è disponibile sul sito della Regione Abruzzo. Il criterio per la valutazione, ha detto l'assessore Paolo Gatti, è stato ancora una volta il merito e non poteva essere altrimenti. L'associazione Direzione Futuro Nereto è la componente interna dei giovani denominata Giovane Nereto con l'obiettivo di favorire la crescita dei processi di socializzazione, relazionale e di comunicazione tra le diversi componenti sociali neretesi e soprattutto per promuovere la partecipazione e il protagonismo dei giovani e delle famiglie tutte, ha organizzato per domani dalle ore 14 il primo carnevale neretese in piazza Cavour. L'animazione per bambini, curata dalla Sprint Animation con giochi gonfiabili, truccatori e musica, cercherà di alletare il pomeriggio. Nasce il premio nazionale Libero Masi Emanuela Kelly per la valorizzazione e la promozione delle produzioni locali. Vediamo il servizio. Sindaco Minora, un premio per ricordare due figure legate a Nereto scomparse con situazioni tragiche alcuni anni fa. Sì, è un premio che Slow Food ha voluto da tanto tempo anche perché Libero Masi era, come tutti sapranno, il rappresentante regionale dello Slow Food e aveva in molte occasioni cercato di propagandare questo Slow Food ed era uno dei rappresentanti più stimati probabilmente a livello nazionale. È un premio che abbiamo condiviso insieme con il Comune di Torano, con lo Slow Food e l'Unione Comuni. Era doveroso da parte nostra tra l'altro perché è un nostro buon cittadino, purtroppo scomparso in circostanze drammatiche e qui tengo a sottolineare che purtroppo ancora oggi non si è capito come siano andate le cose e non si è trovato mai il colpevole. E quindi questa è una cosa che rimane una ferita aperta per il Comune di Nereto. Comunque, tornando al premio, credo che sia doveroso istituire questo premio, condiviso da tutti e da tutte queste istituzioni che ho detto prima e spero che sia un premio che poi si riesca a portare avanti nel corso degli anni perché ritengo doveroso il ricordo di questa persona e della moglie. Grilli, dietro a questo premio dedicato a Libero Masi Emanuele Acherli c'è lo Slow Food. Un'iniziativa importante che si lega al territorio e alla figura dei personaggi che vengono tra virgolette ricordati nel premio. Certamente, questo è un premio che vuole premiare il passato con l'elezione dell'agricoltore dell'anno e il futuro con le tesi di laurea dei giovani che sono laureati nel 2013 e che potranno dare impulso all'agricoltura che secondo me è la salvezza dell'Italia insieme alla cultura, all'architettura, a tutto quello che è il patrimonio straordinario che noi abbiamo. Chi vuole partecipare al premio diamo qualche informazione, come può muoversi? Allora, può chiedere informazioni a infochiocciolaraffaelegrilli.com In tutte le sedi universitari italiane sarà spedito il bando e in pratica deve mandare la sua tesi di laurea o in cartaceo oppure su un cd con l'attestato di laurea, certificato di residenza, tutte queste informazioni e poi gli sarà comunicato se risulta vincitore del premio. Ci sono due sezioni, una sezione dedicata alle lauree triennale e un'altra alle lauree magistrali. Dino Pepe, due comuni per ricordare due figure importanti per questo territorio ma anche per valorizzarlo attraverso questo premio? Assolutamente sì, un riconoscimento dovuto alla figura di Libero Masi che è stato un grande professionista ma soprattutto un grande personaggio del nostro territorio che ha promosso il nostro territorio, i nostri prodotti tipici, l'agricoltura del nostro Abruzzo a livello nazionale e internazionale. Grazie a Slow Food, lui è stato un amico fraterno del presidente Petrini noi indichiamo questo premio dedicato sia al mondo universitario e sia al mondo agricolo. Ringrazio il sindaco di Nereto, il presidente dell'Unione dei Comuni e Raffaele Grilli dello Slow Food perché insieme abbiamo pensato a questo riconoscimento a Libero Masi. Il comune di Martinsicuro, ente capofila, insieme ai comuni di Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi e al Parco Marino Torre del Cerrano nel Terramano hanno presentato alla Regione Abruzzo una proposta progettuale unitaria per la realizzazione di un sistema di bike sharing lungo la costa teramana. Il progetto è stato messo a punto con il coordinamento della provincia di Teramo assessorato all'ambiente e all'energia che sin dalla pubblicazione del bando regionale ha lavorato affinché le amministrazioni comunali collaborassero ad una proposta unitaria. Il soggetto attuatore individuato dalla Regione è la Sangritana S.P.A. che dovrà provvedere a bandire la gara per la gestione delle stazioni. I comuni comparteciperanno con una quota a parte alla gestione. Il territorio della costa teramana è comunato da politiche condivise e coordinate di sostenibilità energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti portate avanti attraverso il Patto Europeo dei Sindaci e il Piano Provinciale della Mobilità Sostenibile, dichiara l'assessore provinciale Francesco Marconi. La proposta progettuale interessa tutti i comuni della costa teramana e consentirà di spostarsi con la bicicletta non solo all'interno dei singoli territori comunali ma anche da comune a comune rendendo pienamente fruibile la pista ciclopedonale che ormai collega l'intera costa della provincia di Teramo. E anche quest'anno l'Abruzzo partecipa alla fiera Foodex di Tokyo la maggiore manifestazione agroalimentare di tutta l'Asia in programma dal 4 al 7 marzo prossimi. Nello specifico sono 22 le aziende abruzzesi presenti a Tokyo e quest'anno 16 imprese su 22 sono vinicole. Si tratta della ventitreesima partecipazione dal 1991 delle aziende regionali con l'organizzazione e il finanziamento a cura del centro estero delle quattro camere di commercio d'Abruzzo e dell'assessorato all'agricoltura della regione. La consueta sfilata dei carri allegorici del carnevale ha richiamato migliaia di visitatori nel centro di San Benedetto anche se l'evento non raggiunge i fasti di un tempo tanto il divertimento per i bambini e gli adulti. Vediamo il servizio di Pierpaolo Flammini. Carnevale di San Benedetto come al solito migliaia di spettatori per la sfilata dei carri quest'anno condita da un po' di polemiche ma alla fine sempre il sorriso e tanto divertimento per grandi e piccini. Presidente Bellini per la prima volta Lascoli al centro di San Benedetto con le maglie. Come mai? Sì perché gli vogliamo bene a San Benedetto. Però vedo qui una supposta non capisco. Eh qualcuno che si sente poco bene i giocatori. Ma qui vediamo anche il sindaco Gaspari con la maglia dell'Ascoli. Perché? Perché sta squadra è Barusta Furia. Barusta. È la squadra che è Barusta. Proprio... Comunque io vorrei sparare una cosa. A campanillismo perché siamo reduci del carnevale di Offita. Però non sembra che sia motivato da questioni calcistiche. Appunto molta gente ne ha voluto dire che fa parte di Ascolani a San Benedetto. Io ero presente, fa parte di gente che era solamente ubriaca. Carnevale è anche ballo divertimento e qui c'è un capo ballerino di un carro. Come va? Bene, un po' stanco ma bene. Siete preparati? Com'è stata questa preparazione di questo carro? Allora tu parli del gruppo? Del gruppo no, siamo tutti ragazzi e amici che ti sono iscritti e... Improvvisiamo. Io sono un po' al capo e tutti quanti seguono me. Ci proviamo. Ogni anno partecipi qui al carnevale san merittese? Sono due carri. Questo e quello dei tuoi stori. Sono responsabile. Che te ne sembra quest'anno la partecipazione? Bene, nonostante domenica è stato tempo brutto. Abbiamo avuto un bel po' di persone. Oggi il tempo è buono. Va bene, va bene. Siamo fiduciosi. Non potevano mancare le ragazze pompone al carnevale di San Benedetto. Adesso cosa vi ne pare? Qual è il vostro carro preferito per ora? Per adesso è quello di Cattivissimo Me. Per voi qual è il carro preferito? Non l'abbiamo visti tutti, quindi non lo so. Voi fate le maggiorette qui a San Benedetto e partecipate sempre agli eventi a carnevale? Il primo anno oppure anche gli altri anni? No, no, anche gli altri anni. Come vi sembra quest'anno la partecipazione? Quest'anno è un po' calata rispetto agli altri anni, però c'è sempre movimento alla fine. E come va con questi bambini? Purtroppo li abbiamo trovati in cantina e bisogna accudirli come si può. È un bambino scuro? Non lo so. Una bambina? Non riesco a conoscerlo ancora mio padre. Purtroppo bisogna badarli. L'abbiamo trovato in cantina e nessuno sa di chi è. Ma si dice che le vocazioni sono poche, invece vedo qui tante suore a questo carnevale. No, 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 le vocazioni vanno a crescere, vanno a crescere, ne sono sempre di più. Perché? Eh, perché è una vocazione che piace. Eh. Ed ora ad Ascoli con il carnevale, tante le maschere all'insegna della satira politica, cittadina e non solo. Martedì grasso, appuntamento conclusivo. Vediamo il servizio di Cristiano Pietro Paolo. Siamo qui ad Ascoli, è il famoso carnevale storico che si svolge tra la piazza Ringo, piazza del Popolo e tutto il centro storico. Ci sono migliaia di persone in giro per il centro, già le prime ore del pomeriggio. E noi abbiamo anche visto in particolare una di queste divertentissime mascherate che vi proponiamo. La vostra mascherata, cosa rappresenta in particolare? Rappresenta che ci fermiamo... Devo parlare serio? Io sto andando a Roma a ritrovare mio marito, vado alla trasmissione a chi l'ha visto. E soprattutto questo è il pullman che va a Roma e si ferma a Caporio dove facciamo sosta. E io colgo l'occasione per far vedere mio marito, chi l'ha visto. E questo è il mio figlio. Mamma, papà, io voglio papà. Questa è disperata perché a parte che una donna come me non è facile lasciarla. Però lui è andato a Roma, è andato a vendere il formaggio, non è venuto più. E adesso lo sto ricercando. Sei gato tutto, sei mangiato pure lo salame. Io porto l'ascole e sono costanti. Io voglio andare a vedere la partita a Roma. E si fermano a Caporio. Nessuno che mi dà a bere, questi pensano solo a mangiare, va bene? Io voglio andare a Roma. Non so più, devi andare a Roma per la Roma, questi vecchi. Questa è per l'occasione, per l'occasione. Questa mi scappa. Mi hai fatto vedere un male di scena, non ne posso più. Ma sono sempre, capito? Questo è un signore da televisione. Oh sì? Vecchè nulla, l'opostale? No, no, non giocava l'opostale. No. No, ho avuto un incidente con la macchina. Mi vado alla lupava, mi vado a fare benedì. Oddio, mi sento male. Sono suor Roxana di Rieti. Ero in cura presso il medico per una cistite e una crastite. Però un giorno, una mattina, mi alzai con la pancia un po' gonfia. Andai dal medico e mi disse, guardi, lei è incinta. Ma come è incinta? Io non me ne so accorta di niente, non so se non dite cosa. Può essere? E chi sei tu? Io so, sapute. A me mi dice che c'è corasco, è sempre cucina contro la scuola. E mi dice, io perché mi sono fatto l'iPhone 31 pollici. Se lo vestirebbe essere. A me mi dice che sono sapute. Qui stai frate, ma è infatti usi. C'è su un testo sempre i soldi miei e la macchina mia. Può essere una che c'è solda su un testo. Allora, noi gli siamo dite agli autisti, siccome va la percentuale, gli siamo dite, portaci dei fusti, dei bei ragazzi a tutti. Non vi preoccupate. Tu vedi, che ci facevano questa robetta? Gli sono dite, questo è un mercato che fa ridi. C'è portata una monica, c'è portata una vecchia che va a Zenni di Settane. Essa, quando alla fine la contessa, che vede tutto l'udio e spende, quando alla fine scappa. Perché dice, queste pure vanno cercate qualche bello fustio. Vedi, vedi tutta questa gentaccia e domande male, i nove, che gli stanno dicendo, gli stanno via, non se ne parla e non se ne parla, guarda. Come negli anni precedenti, nel pomeriggio di domani, a Giulianova, in occasione del carnevale, rimarranno chiusi la biblioteca civica Bindi, l'informa giovane, la piscina comunale e gli asili o nido. Il blu, il colore della solidarietà, il colore dell'autismo. È il colore che vestirà una città intera, coinvolgendo i negozianti del Centro Storico di Teramo e le associazioni sportive teramane il prossimo 2 aprile. Nella giornata mondiale dell'autismo, l'associazione Impronte di Gamma organizza un'iniziativa aperta a tutte le associazioni della provincia. Il blu colorerà l'abbigliamento di chi sfilerà per il Centro Storico Cittadino, così come di blu si illumineranno i negozi e i monumenti. Vivere l'università non stop fino a mezzanotte, ma con l'opportunità di incontrare artisti, usufruire della mensa anche a cena e assistere agli spettacoli. E questo è il nuovo progetto dell'Università degli Studi di Teramo. Si comincia il 5 marzo. Ogni martedì e mercoledì il campus universitario di Costa e Sant'Agostino diventerà open, con biblioteca e sali studio aperte agli studenti fino alle 24. Il martedì in particolare sarà il giorno dedicato alla rassegna cinematografica, con la proiezione degli ultimi 16 film che si sono aggiudicati in Leone d'Oro a Venezia. Il mercoledì invece sarà il giorno dedicato ad eventi teatrali e musicali, in collaborazione con la fabbrica dello spettacolo. L'ingresso alle manifestazioni è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, oltre che agli studenti. Ed ora passiamo allo sport. Prima o poi doveva arrivare e è arrivata nel modo più fastidioso. La Samb perde la prima partita della stagione pagando una gara, nella quale, tranne negli ultimi minuti, non ha fatto nulla per vincere. Le colpe, al netto dei meriti dei bianco-verdi, sono tutte dei rosso-blu, troppo passivi nel primo tempo, troppo molli nel secondo. La sconfitta, inappuntabile nonostante le dichiarazioni del post-partita, infastidisce molto. I rosso-blu hanno tradito loro stessi nella partita più prestigiosa, contro la migliore antagonista nel momento migliore per non perdere. Una vittoria avrebbe significato l'ipoteca sul campionato e soprattutto la superiorità assoluta della squadra di Mosconi. La sconfitta non pregiudica nulla, ma anche per come è arrivata rappresenta una ferita narcisistica difficile da digerire. La ventisesima giornata dell'eccellenza Marche è andata in archivio con sei successi e tre pareggi. 17 le reti messe a segno in questo ventisesimo turno. La Samb, dopo 25 risultati utili consecutivi e sei successi di fila, perde imbattibilità nello scontro diretto in casa della seconda forza del torneo Castalfidardo, che ha restituito ai rosso-blu il 2-1 all'andata a Riviera. Ed ora in Abruzzo. Vede ormai vicino il traguardo della Serie D il San Nicolò, che riporta a 13 il vantaggio sulla Vezzano, sconfitto in rimonta dal Montorio, che torna ad accarezzare la possibilità di centrare la salvezza senza spareggi. Vince ancora la Torrese, mentre escono sconfitte con lo stesso punteggio la Rosetana in casa e l'Alba Adriatica sul campo della Vastese. Il punto sul campionato con questo servizio. Quattro giorni di tempo per ripristinare il larghissimo vantaggio, più 13 sull'Avezzano, e focalizzare l'immediato ritorno in Serie D. Fa le cose per bene il San Nicolò, che a sette turni dalla fine della stagione regolare nel torneo di eccellenza abruzzese può già iniziare festeggiamenti. Gli uomini di Epifani passeggiano sul campo della Virtus Cupello 6-1 e riportano a 13 lunghezze il vantaggio sull'Avezzano, che perde a Montorio vanificando nella sostanza il successo nel recupero di mercoledì con l'Alba Adriatica. Per avere il conforto anche della matematica, Biancazzurri devono ora ottenere otto punti in sette giornate. Una formalità per chi in stagione, almeno in campionato, non ha mai perso. L'impresa di giornata, tornando al discorso di vertice, la firma proprio in Montorio di De Amicis. I gialloneri vincono in rimonta 3-2 e tornano ad accarezzare la possibilità di centrare la salvezza senza spareggi. Se si esclude la Torrese, capace di allungare la sua serie utile, grazie al successo interno con il Pineto, il resto delle formazioni terramane, comprese nel raggruppamento, ha avuto una giornata no. Ancora una sconfitta interna per la Rosetana, battuta a domicilio dal Francavilla, sfida alla quale si riferiscono le immagini. Biancazzurri che non riescono ad opporre valide argomentazioni al Francavilla, in piena risalita, che passa al fonte dell'Olmo grazie alla doppietta di Lalli e al gol di Bordoni. Rosetana invece ha segno con Bizzarri. Detto del Pineto, sconfitto nell'anticipo dalla Torrese, anche l'Albadriatica torna sconfitta dalla trasferta con la Vastese. Rovescio che non muta il cammino della squadra di Serafino, alla quale mancano pochi punti per mettere in casaforte la salvezza. E con questo servizio termina il nostro Tg. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.